Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Il campo basso piega la resistenza di un osticare canatese a 5 minuti dalla fine e stacca la seconda il notaresco a meno 4 dai lupi. Si decide il gol di Rossetti nella giornata delle difficoltà maggiori a causa degli infortuni. Cudini riesce a vincere nel finale. Dirige il signor D'Ambrosio di Collegno. Squalificati, Bontà e Fabriani non è disponibile all'ultimo minuto nemmeno il classe 2002 Vitali. Così gioca in attacco Davide Fruscella, 2003 originario di Busso. Cudini parte con 5 fuori quota. Al quinto punizione di Ladu, forse si intromette Esposito. De Chirico para quasi come un pallavolista. Non estetica ma efficace la respinta del portiere ospite. La re canatese Di Pagliari si difende e riparte. Al sedicesimo quasi a centrocampo i giallorossi recuperano palla sul Ladu. Contropiede ospite con palla offerta a Titone che in due momenti trova prima la respinta di Raccichini, poi di Menna quasi sulla linea di porta. Grande palla gol per la re canatese che è intraprendente. Al ventinovesimo Togola effettua una bella giocata sfruttando la sua forza fisica. Raccichini è costretto a stenderlo. Giallo per il portiere di Cudini. Nulla di fatto dal calcio di punizione ospite. La formazione rosso-blu è rimaneggiata e lo diventa ancora di più dal trentasettesimo quando si fa male Tengorang. Cudini si prepara ad una doppia sostituzione dentro Mancini e Rossetti al posto di Fruscella e Tengorang. Il tecnico torna ai quattro fuori quota originari. Finisce un primo tempo molto anonimo da parte della squadra di Cudini al cospetto di una formazione che fa la sua onesta partita come la re canatese. L'inizio della ripresa con le immagini di Loreto Celasuolo vede il campo basso con un piglio molto diverso. Provane sia al quinto con un cross fuori misura per tutti da parte di Van Zan e solo un minuto dopo con uno scambio stretto e rapido fra Esposito e Rossetti con la palla che giunge allo stesso Esposito fermato solo dall'incrocio dei pali. Che occasione per il rosso-blu. Al quindicesimo dalla destra cross di Cogliati con la palla che passa tutta la luce della porta prima di una conclusione mancina di Candellò rintercettata da Senigallesi. Un tiro o un cross al diciannovesimo è quello di Van Zan che chiama in causa De Chirico ad una parata sul primo palo. Meglio il campo basso. Al ventesimo triangolo molto rapido fra Esposito e Rossetti con l'attaccante Molisano anticipato sul più bello dal portiere Giallorosso. Dal ventiseiesimo nel campo basso dentro Sbardella per Ladu. Viene alzata la posizione di Martino giocatore dotato di spinta. Il campo basso passa al 3-4-3. Questa è la scelta del tecnico. Una maledizione per Cudini però gli infortuni si fa male anche Martino. Deve entrare Capuozzo stesso minuto dell'ingresso in campo di Di Domenico Antonio al posto di Cogliati. Al quarantesimo il gol che decide la partita da corner di Esposito. La tocca Rossetti di testa quel tanto che basta per mettere fuori causa la difesa della Recanatese ed il suo portiere. Scoppia l'esultanza della panchina per un gol che può valere tantissimo nel discorso promozione. Fra l'altro il secondo stagionale per Rossetti che segna sempre gol decisivi. Lo stesso Rossetti per la gioia sfrenata si lascia andare ad un mezzo spogliarello punito dall'arbitro con il cartellino giallo. La partita continua a nascondere delle insidie per il rosso-blu. La Recanatese invoca un calcio di rigore al 43esimo dopo cross di Pezzotti. C'è un contatto in area fra Dalmazzi e Sbaffo. Nulla di regolare per l'arbitro. Vivaci. Le proteste ospiti. Terza vittoria consecutiva interna per 1-0 per un campo basso che arricchisce il proprio primato. Approfittando della pausa di campionato negli spogliatoi la squadra festeggia e dedica la vittoria all'infortunato portiere Davide Piga.